Ora scendiamo nel deposito delle bambole dimenticate, queste sono tutte cose che sono state lasciate Dita rotte, ma la cosa che hanno tutte è gli occhi che sono entrati in dentro perché i bambini a tutti gli infilavano le dita dentro e quindi trovi sempre i bambole che hanno gli occhi dentro che girano che stanno così e ti dici ok mettiamo a posto gli occhi Con il boom economico le persone, la cosa si è stesa e quindi molti e sono nati i primi collezionismi, le piccole collezioni, la voglia di riparare cose vecchie e quindi il negozio è proliferato così sapendo che ci hanno lavorato in questo negozio oltre mia nonna, mio padre e mio zio, mie cugine, mie cugine, poi mia madre e poi anch'io Grazie a tutti